Ed andiamo ora a sentire invece il commento del Governatore del Veneto, Luca Zaia, proprio alle parole di Squinzi all'Assemblea di Confindustria. Vediamolo. Un commento a relazioni di Squinzi? Direi positiva, abbiamo avuto un allargamento del cuore quando ho parlato della questione settentrionale, ma poi direi che in tutte le sue parti, dall'inizio della fine ha toccato i punti nevralgici, i debiti alla pubblica amministrazione, il tema della burocrazia, la fiscalità, il tema dell'internazionalizzazione e poi il grande tema del nord, delle locomotive d'Italia che deve essere trattata come tale e non come accade oggi. Senta, Letta in Europa è andata, ha fatto le sue proposte per quanto riguarda il lavoro, c'è stato un primo sì, però insomma ci rimangono sempre i vincoli che ci pone a noi l'Europa, no? Beh, l'Europa è una matrigna, basti considerare che oggi non è che brilla di luce proprio rispetto a una politica che ci dovrebbe essere a livello comunitario. Penso che questo grande limite che abbiamo lo si vede poi in quei regolamenti, in quei vincoli che ci impone l'Italia. E noi siamo pronti per un confronto serio e sereno, certo è che il sistema paese ha dei grossi problemi al suo interno, parlo dell'Italia, da risolvere. E quindi secondo lei come se ne esce da questa situazione? Ma se ne esce ad esempio se si vogliono sistemare i conti pubblici, avendo il coraggio di applicare i costi della pubblica amministrazione, della regione del Veneto a tutta Italia, si avrebbe un risparmio di 30 miliardi di euro all'anno. E lei pensa che questo potrebbe essere un elemento che potrebbe dare impulso a una ripresa su una crisi che è oggettivamente particolarmente difficoltosa? Guardi, 30 miliardi sono una super finanziaria, sono più di un terzo dell'interesse sul debito pubblico. Significherebbe avere ogni anno una cassa disponibile senza costi, senza mettere tasse, a favore della promozione dell'economia e creare nuovi posti di lavoro. 30 miliardi non sono pochi, sono 60 mila miliardi di vecchie lire, semplicemente dicendo a tutti di comportarsi in maniera virtuosa e non come a cadetore.